Una guida che parla in arabo e in arabo spiega il Vaticano, la sua storia, i monumenti, la geografia, la chiesa e i dicasteri, ma soprattutto contribuisce a spianare la via del dialogo. Si trasforma in uno strumento di accoglienza, approfondimento e annuncio verso quelle migliaia di turisti e fedeli che arrivano ogni anno dal Medio Oriente e dai tanti paesi arabi per visitare il piccolo Stato Pontificio, a partire dalla tomba di Pietro. L'arcivescovo di Biblos in Libano e autore del volume edito dalla libreria editrice vaticana, Monsignor Edmund Farat. Questo contesto di guerra rivela un bisogno spaventoso di cultura ed ideale trascendentale. La cultura viene fatta dalla storia e dalla vita del popolo cristiano. San Pietro, il Vaticano, non è una proprietà dei cattolici, è un patrimonio mondiale. Chi guarda verso il Vaticano guarda per cercare una risposta. Lo Stato di guerra guarda verso il Vaticano con ansia. E questa iniziativa è parte del contesto, ma non è una risposta al contesto. Nel volume e foto e immagini suggestive di bellezze antiche accendono però una luce anche su quei tanti simboli della cristianità oggi distrutti, violati in tante parti del mondo, soprattutto in Iraq e in Siria, dove la furia dello Stato Islamico si scaglia ancora più fortemente contro chi ha scelto di seguire Cristo e che per il solo fatto di essere cristiano, come ha spesso denunciato Papa Francesco, continua ad essere ucciso. Da quando i cristiani esistono sono perseguitati. Del tempo di Paolo, del tempo di Agostino, del tempo del Medioevo fino ad oggi. Ma oggi i cristiani sono simbolo di una realtà che molti vedono e pochi capiscono. Come vivono, come tutti gli altri, pieni di fervore, pieni di entusiasmo, ma non hanno una pretesa di ricompensa al loro fare. E questo non viene capito, perciò vengono perseguitati per la loro missione che testimoniano nella loro vita. Libertà religiosa calpestata, fede imbavagliata, mentre cresce il numero di martiri cristiani. Eppure, dice Monsignor Farat, lo Stato Islamico continua indisturbato la sua opera di morte e distruzione, sostenuto da tante organizzazioni internazionali. I jihadisti oggi hanno i mezzi per uccidere le armi, hanno anche i mezzi per vivere e per attirare a sé tante generazioni. Perciò bisogna affermare questa banda di persecutori, ma bisogna farlo presto. Il Santo Padre sta proponendo molte iniziative concrete, questo è molto nuovo. Prima di tutto dobbiamo essere convinti che il male non vincerà. Il male può far male, ma non può vincere. Secondo, che è una crisi intellettuale, mancanza di ideale, trascendentale, che viene capito in un modo integralista di una parte, non trova una controparte dell'Occidente per frenarlo, per aiutarlo, per pulirlo e invade. Terzo, c'è un bisogno di fermare le armi, fermare le finanze, non comprare più.